Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight's Tube, nuova reaction. Da qualche giorno, adesso non mi ricordo esattamente da quanto, è uscito il trailer di The Kissing Boat 2. Come sapete io vi ho già parlato del libro del primo film, diciamo che il libro di Beth Reckless, perché questi film comunque sono tratti dalla serie The Kissing Boat di Beth Reckless, che sono editi oltretutto dalla De Agostini e quando feci la recensione del primo libro appunto che trovate qui nelle schede e poi nelle schermate finali di questo video, avevo speso anche due parole in merito al film. Il primo libro non mi era dispiaciuto e poi è uscito quella novella, sempre in cartaceo, di cui adesso mi sfugge il titolo anche perché non l'ho letta. Devo mettere, è comunque una novella sulle loro vacanze al mare e francamente non è che mi interessasse tanto. Adesso appunto, tra poco se non sbaglio, proprio in concomitanza dell'uscita del film su Netflix, dovrebbe uscire appunto anche il cartaceo di The Kissing Boat 2, che non so francamente se leggerò perché per quanto la storia l'abbia trovata carina, mi aveva fatto incazzare anche per altre cose. Ecco, sul fattore amicizia, amore, io sono abbastanza critica su questa cosa qui perché che lui le cagasse il cazzo perché si faceva il fratello quando lui invece si faceva qualunque cosa si muovesse è una cosa che non ho mai sopportato. Se sei un amico e che tu abbia una così bassa opinione di tuo fratello sei proprio una testa di cavolo, ecco, mi dispiace. Quella cosa lì, il personaggio di lì mi fece veramente incavolare, mentre Elle e Noah invece mi piacevano molto, molto come coppia. Comunque il 24 di luglio esce questo film su Netflix e io lo guarderò, però stavolta senza fare paragoni con il libro perché non so se lo leggerò in tempo, quindi di conseguenza non farò paragoni, farò la recensione, comunque ne parlerò soltanto del film, poi quando sarà il momento farò la recensione anche del libro perché francamente non ho tutto questo, diciamo, hype di leggere questo libro, c'ho tanta altra roba che ha più priorità, però il film invece lo si guarda in, di solito questi video non ho un'ora e mezza, neanche due ore, quindi li si guarda più velocemente, quindi ho deciso appunto di fare questa reaction dato che appunto ho parlato del primo film quando ho fatto la recensione del primo libro che è stato molto fedele, quindi mi viene da pensare che forse magari chi avrà letto il libro e poi visto il film mi potrà far sapere nei commenti che cosa ne pensa quando sarà il momento, quindi bando alle ciance e accingiamoci a guardare questo trailer di questo film di cui francamente per quanto potrà risultare carino io non ne vedo un'utilità ma chi sono io per giudicare, quindi bando alle ciance e cominciamo. Lo stand dei baci è pronto a fare affari! Ah questo è quello che è successo nel primo film, lo stand dei, il famoso Kissing Boat. Ecco qui il loro... Vi starete ponendo qualche domanda? Eh beh direi... Cos'è successo? Questo è il primo film? Noi e io abbiamo passato tutta l'estate insieme e poi esattamente 27 giorni fa il suo cuore è volato ad Harvard. Mi manchi, idiota. Tu di più. Non sono cambiati una virgola eh. Il primo giorno di scuola e arrivano... È una classica... Queste sono le classiche bitches. Oddio, non... Ditemi che non mettete il trisom. In casi come il vostro lasciarsi è una cosa che avviene in automatico. Ma va fa culo, ma che stronze, ma perché? Ma chi è questo? Quello nuovo, il nuovo Jacob. Si è tolto la maglietta, manco Jacob di Twilight. Quindi prenderò qualcosa da sgranucchiare. Davvero divertente. Ma da ma chi è questo? Ma c'è una faccia. Prendiamo di andare alla Berkeley. È lì che le nostre mamme sono diventate amiche. Cioè, scegli l'università in base a questo mi sembra un po' superficiale. Ma chi sono io per giudicare? Ti aiuto? Cavolo no! Ci serve Marco allo stand. Perché? Sarà perfetto, credimi. Convincilo e vedrai che ci sarà la fila. Ma scusa. Tu fossi uno dei baciatori di quest'anno? No. Tu non fai beneficenza? Ti parlo, la sto facendo. Eh, ma questo è strozzato. Ma lui gli dà pure il 5. Ho cambiato delle domande alla Tufts, al Boston College e ad Harvard. Oh! Ma che cavolo? Aia! Ha trovato i volantini di Harvard. Oh, è andato a trovarlo. Ho appena cambiare tutti i tuoi piani per lui. Amo questa città. Io questa ragazza. Oh, che carino. Lui è veramente carino. Ho sempre creduto di sì. Scusa se ho dimenticato il cellulare a casa. Chi c'era con te? Ero con i ragazzi. Senti, i perifidanti di... Oh, madonna. Quei adesso i dubbi, le cose. ...intelligente e con gli stessi interessi. Non la lascerei mai. Oggi. Non appena inizio a comprendere una cosa. Aia, faccia a faccia. Aia. No, vabbè. Se lui si incazza perché... Oh, cavolo. The Kissing Boat 2. Allora. 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 Adesso un momento che spengo qua il telefono del mio genitore. Perché sapete che io uso il cellulare del mio padre per guardare i video. Comunque poi in descrizione trovate il link del video che ho visto. Io comunque l'ho guardato sull'account di Netflix. Quindi basta che cercate Netflix Italia e trovate tutti i loro video. Allora. Si pronuncia un film carino. Un film come... La copia del primo però. Stavolta appunto no. È ad Harvard. È rimasta giustamente perché lei deve finire ancora un anno. Perché hanno un anno di differenza se non mi ricordo male. E già ci sono alcune cose che mi fanno incazzare. Intanto questo Marco che è sbucato da chissà dove. Che in una scena si è tolto la maglietta che Jacob di Twilight levati. E che sarà... Poi c'è anche quest'altra ragazza ad Harvard che sembrerebbe appunto... Hanno messo altri due comprimari. Per creare la spaccatura. Poi se ci sarà l'happy ending francamente non lo sace. E francamente da una parte ci spero anche. Perché sapete nelle storie d'amore vuoi sempre l'happy ending per i due protagonisti. Ma già una cosa mi fa incazzare. Collie è un personaggio che nel primo libro come nel film mi faceva incazzare. Giustamente lei ha messo in considerazione anche Harvard. Perché c'è il suo ragazzo. Giustamente gli vuole stare più vicino. Questa cosa è giusta. Non dico che è giusto sconvolgere tutta la tua vita per il tuo ragazzo. Ma già di fatto che voi due vogliate andare alla stessa università delle vostre mamme. Perché lì che sono diventate amiche non perché hanno degli ottimi piani di studio. È già di per sé una cosa superficiale. Che poi tu caghi il cazzo alla tua amica perché ha preso in considerazione l'università del suo fidanzato. Tra virgolette fidanzato che poi è tuo fratello. Non ti può... Questo si incazza per ogni singola cosa. E si incazza perché il fratello e l'amico si sono messe insieme. E si incazza perché lei lo vuole raggiungere. Ma bello mio non è che quella ragazza. Tu c'hai lì anche la tua svintera. Potresti anche tu prendere in considerazione l'idea di andare alla stessa università della tua svintera. Non è che devi stare attaccato a questa ragazza per il resto dei suoi giorni. Una piovra è sto lì. È una cazzo di piovra. Ma a parte questo ci sono vabbè siparietti così proprio da commedia romantica teenager. Si preannuncia un film carino. Un film appunto estivo da guardare adesso per spegnere il cervello. Farsi anche quattro risate. E che regala quelle emozioni e anche quelle incazzature. Perché a me veramente... No veramente il personaggio di lì mi... Allora è carino per certi punti di vista. È umano. Che poi io... C'è stata la scena che purtroppo parlando... Poi se la vedete nel video... Lei gli fa... Non fai mai beneficenza. La sto facendo e gli sto parlando. E lui è lì. E poi gli dai il 5. Ma stai scherzando? Ha appena iperculato la tua migliore amica e tu gli dai pure il 5. Ma sei uno stronzo. Se fossi stato io lì gli avrei detto... Ehi. E come cazzo ti permetti? Ma stiamo facendo noi la beneficenza a te. Che ti stiamo chiedendo di fare il baciatore per il nostro stand. Ma battene a fanculo come direbbe De Sica. No veramente il personaggio di lì è un personaggio che mi sta qua. Non so se si è capito. Non è un buon amico. Non è un buon amico. Perché mi piace. Non puoi stare attaccato a questa ragazza. Mentre tu la svimfera ce l'hai. Mentre lei c'è il ragazzo lontano. Eh no. Eh no. Già questa cosa so già che mi scatenerà l'embolo a livelli di silenzio degli innocenti. Alla dottor letter diciamo. Comunque vabbè. Il trailer è carino. Il film si preannuncia come ho detto. Carino. L'intrattenimento. Niente da prendere troppo sul serio. Non so se sarà fedele al libro. Perché ripeto. Non credo che farò in tempo a leggerlo. Quando uscirà il film. Di conseguenza non potrò fare paragoni. Quindi mi vedrò il film al 100%. Poi come vi ho detto. Se qualcuno di voi legge il libro. E poi guarda il film. E mi può far sapere nei commenti. Se è fedele o meno. Così almeno. Facciamo un quadro completo. E niente ragazzi. Comunque. Quando l'avrò guardato. Vi saprò dire esattamente cosa ne penso. Adesso il trailer è carino. Lì mi sta sui coglioni. L'avrete capito. E oltretutto poi. Joy King. Che interpreta Elle. E Jacob Lordi. Che interpreta Noah. Prima stavano insieme. Poi dopo. Purtroppo adesso si sono lasciati. Quindi. È bello che. Che comunque. Siano riusciti ancora. A lavorare insieme. Perché lui adesso sembrerebbe. Che stia. Con Zendaya. Che è la protagonista. La Mary Jane. A MJ. Dei movie spider. Me ne ha fatto. Anche se sono conosciuti. Sul set di Euphoria. Che è una serie. Che io voglio vedere. Magari appena sarà possibile. La guarderò. Questa è una curiosità. Insomma. Curiosità così off topic. E sono stata contenta. Di rivederli ancora. Comunque insieme. Perché comunque. Quando anche se ti lasci. Purtroppo. Se devi lavorare con qualcuno. Poi Joy King. È brava. Perché ha fatto una serie di Woody. Con adesso non ricordo il nome. Ed è stata bravissima. Anche già con i Bellordi. Sono bravi attori. E così. Non so. Mi sembra anche cose. Che debbano calare un po' il loro talento. Per fare i cretini. Ecco. Però va bene. Il film sempre annuncia carino. Io lo guarderò con piacere. Bene. Questo video si conclude qui. Questa reaction si conclude. Spero che vi sia piaciuta. Come vi ho detto. Adesso nelle schermate di finale di questo video. E anche nelle schede. Trovate la recensione. Che ho fatto al primo libro. Di cui ho parlato anche del film. Perché ho fatto un po' un paragone. Vi ricordo come sempre. Che nella. In descrizione trovate sia il link. E l'instagram. Della pagina Facebook. E dell'Italia. Dedicata a The Walking Dead. Trovate il mio Instagram. Se avete voglia di dare un'occhietta. Le mie foto. Le mie stories. E mettermi qualche like. E seguirmi. Mi fate tanto contenta. Ma trovate anche il mio canale di Twitch. Perché sì. Ho aperto anche un canale Twitch. Dove faccio soprattutto. I gameplay. Quindi. Ogni tanto ne farò anche qua. Però diciamo che su Twitch. Proprio voglio. Voglio crearlo. L'ho creato proprio apposta. Per i gameplay. Quindi. Se amate i videogame. Seguitemi su Twitch. Che troverete tanti belli. Bellissimi gameplay. Iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella. Per attivare le notifiche. Sui nuovi video. E se questo vi è piaciuto. Mettetemi un bel like. E condividetelo. Vi mando. Un bacione enorme. E noi ci rivediamo. Al prossimo video. Alla prossima recensione. Alla prossima reaction. Ciao a tutti. Ma comunque. Una piovra. Sto cazzo di lì. È una cazzo di piovra. Ma dai. Ma non è possibile. E noi ci rivediamo. E noi ci rivediamo. E noi ci rivediamo. E noi ci rivediamo. E noi ci rivediamo.